Sono Omar Hashem, docente di inglese terzo anno presso il corso di laurea in mediazione interlinguistica e interculturale. Nel mio corso verranno perfezionate le competenze relative a reading, writing, listening e speaking a livello C1 avanzato e si svilupperanno le conoscenze linguistiche e metodologiche necessarie per tradurre con efficacia varie tipologie di testi dall'inglese all'italiano. Un altro corso che fa capo all'anglistica è istituzioni, storia e cultura della lingua inglese. In questo corso imparerete i fondamenti istituzionali, culturali e storici dei paesi anglofoni, con particolare attenzione alla Gran Bretagna e gli Stati Uniti d'America in ottica comparativa. Come per i corsi di lingua, anche per istituzioni lo studente sarà coinvolto in attività interattive con l'obiettivo di sviluppare nel modo più efficace possibile un approccio critico e indipendente alle tematiche affrontate. Infine, per gli studenti più volenterosi, dall'anno 2019-2020 abbiamo stretto un accordo di collaborazione con l'Unione Europea per il programma Erasmus Plus Virtual Exchange. Questo programma, che coinvolge università dei paesi del Mediterraneo, del Nord Europa e degli Stati Uniti, permette uno scambio virtuale guidato e molto proficuo tra studenti di varie nazionalità, che si confrontano in lingua inglese su varie tematiche legate all'interculturalità. La partecipazione a questa iniziativa, oltre a fornire vantaggi concreti per la carriera universitaria, darà anche la possibilità, una volta completato il programma con successo, di ottenere un badge riconosciuto dall'Unione Europea e da poter inserire nel proprio curriculum. Speriamo di accogliervi numerosi.